è dedicato a pelli miste e grasse il nuovo la roche posee fa clarsiero peeling quotidiano anti imperfezioni per viso e pelle a tendenza acneica un prezioso concentrato di acidi esfolianti combinati con niacinamide lenitiva che abbiamo conosciuto meglio nell'esclusiva recensione che ti proponiamo tutti i dettagli le foto e i risultati ottenuti con un prodotto rivoluzionario per le pelli più problematiche cos'è come funziona la roche posee fa clarsiero è un siero ultra concentrato per pelle mista e grassa che agisce su punti neri brufoli macchie problemi di pori visibili grazie alla sua formula senza risciacquo è pratico da usare ed efficace sulle pelli più problematiche di cui affina la grana cutanea e che purifica in profondità un prodotto innovativo che è l'equilibrio perfetto tra un peeling e un siero lenitivo specifico per correggere le imperfezioni senza ostruire i pori ma bensi liberandoli dal sebo in eccesso la texture leggerissima permette un assorbimento praticamente istantaneo rendendo l'applicazione confortevole e perfettamente integrabile in qualsiasi skin care routine la roche posee fa clarsiero è un peeling sfogliante delicato adatto per uso quotidiano che con l'utilizzo costante aiuta a ridurre brufoli punti neri macchie e impurità su pelle adulta mista e grassa la pelle è giorno dopo giorno più levigata e al tatto confortevole con rughe sottili ridotte e meno pori visibili l'eccesso di sebo viene drasticamente diminuito grazie all'efficace azione sebo regolatrice che agisce in profondità ma senza aggredire per quali tipi di pelle e fa clarsiero la roche posee ha indicato nel trattamento della pelle mista grassa e a tendenza acneica è consigliato anche come coadiuvante nel trattamento della dermatite seborroica come quando si usa una volta al giorno alla sera trattandosi di un prodotto fotosensibilizzante e caldamente consigliato usarlo prima di andare a dormire dopo aver deterso bene il viso con un prodotto come il fa clarge la roche posee il siero va applicato in minime quantità sulle zone interessate con movimenti lenti e circolari fino al completo assorbimento non va usato sul contorno occhi e non va risciacquato cosa contiene non comedogeno contiene un prezioso mix di acidi esfolianti e leviganti specifici per pelle a tendenza acneica nello specifico la roche posee propone il trittico composto da acido glicolico al 3,5 per cento che sfoglia in superficie contrasta i segni con azione antimicrobica acido salicilico all 1,5 per cento per esfoliare in profondità e contrastare le macchie con azione antimicrobica lh allo 0,5 per cento che sfoglia in superficie favorendo il rinnovamento cellulare a questi si aggiungono la niacinamide lenitiva al 3,5 per cento elemento che aiuta a contrastare gli arrossamenti ridurre l'iperpigmentazione e rinforzare la barriera cutanea e l'acqua termale di la roche posee ideale per contrastare la formazione dei radicali liberi e lenire la cuta sensibilizzata una formula efficace per purificare la pelle grassa mantenendola comunque giovane con il massimo del comfort e un'ottimale azione preventiva che contrasta la ricomparsa di future imperfezioni e fa clarsiero ultra concentrato 37,99 euro disponibile 34 new from 27 euro e 72 centesimi spedizione gratuita vedi dettagli amazon it is over a pronto 2023 4 e 32 descrizione fa clarsiero ultra concentrato e 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 fa clarsiero ultra concentrato recensione la roche posee e fa clarsiero anti imperfezioni la mia pelle è mista, giovani ma con parecchie imperfezioni. Sono infatti tante le macchie lasciate da acne giovanile e molti brufoli che periodicamente popolano il mio viso insieme a rossori da copero slocalizzate. Non mancano di certo i punti neri che affollano il mio naso e l'eccesso di sebo che, soprattutto in determinati periodi, rende la mia pelle troppo lucida. Ho messo alla prova il nuovo siero e faclarla a roche posate standolo per circa due settimane, una volta al giorno prima di andare a dormire. Vediamo com'è andata. Il packaging. Come ogni siero la roche posè, anche faclar mantiene intatte determinate caratteristiche che hanno reso famoso il brand e che ritroviamo anche nel siero a Yalu B5. Boccette in vetro color acqua marina, è dotato di arrogatore con pipetta che consente di dosare perfettamente il siero senza alcuna dispersione di prodotto. Comodo e pratico, si conserva perfettamente nel tempo. La texture. Vischiosa, è completamente trasparente. Sulla pelle inizialmente sembra appiccicosa ma è una sensazione momentanea che svanisce nell'arco di qualche secondo, il tempo di essere assorbita. Assorbimento che risulta veloce, istantano in determinati casi e che rende il prodotto molto leggero, impalpabile a tal punto da fondarsi immediatamente con la pelle. La profumazione pungente, ricorda molto un farmaco non particolarmente gradevole, svanisce spontaneamente nel momento in cui il siero si fonde con la pelle. L'esperienza d'uso. E fa clarsiero la roche poseva usato una volta al giorno, preferibilmente alla sera. Trattandosi di un prodotto fotosensibilizzante è bene usarlo lontano dai raggi del sole e, nel caso in cui lo si utilizzi al mattino, deve essere sempre seguito da una crema con fattore SPF. Va usato su un viso ben deterso e completamente asciutto. A questo proposito consiglio di usarlo con il gel e fa clarsiero la roche pose, detergente per pelli miste e grasse con azione anti impurità che ne amplifica i risultati con un'efficacia straordinaria. Use fa clarsiero da circa un mese su consiglio del mio dermatologo e gli effetti combinati con il siero della stessa linea sono a dir poco superlativi, pelle perfettamente pulita e opacizzata ogni giorno con riduzione netta delle imperfezioni. E fa clarsiero ultra concentrato 37,99 euro disponibile 34 new from euro 27,72 esova apro 8,2023 4 e 32 vedi dettagli amazon. I prezzi aggiornati al, aprotto, 2023 4 e 32 risultati ed effetti sulla pelle. Dopo due settimane di utilizzo di la roche pose e fa clarsiero i risultati ottenuti rispettano e superano le aspettative. Il siero risulta piacevole da usare, la texture in gelo rende confortevole sulla pelle anche se sulle prime pizzica la sensazione non è fastidiosa, anzi, ne basta una minima quantità per trattare tutto il viso e pochi secondi per applicarlo e lasciarlo totalmente assorbire. Usandolo in coppia con effaclarge la pelle appare purificata, più pulita in profondità e con un aspetto opacizzato. Ciò significa meno pori visibili, e quindi meno lucidità, un ritrovato equilibrio della produzione di sebo e una pelle più levigata. L'incarnato acquista freschezza con una migliorata luminosità, la riduzione dei segni della stanchezza è un aspetto più rimpolpato. Per ciò che riguarda brufoli, macchie e comedoni questo siero è riuscito laddove tanti altri hanno fallito, dopo l'uso ho notato che compaiono meno brufoli. Sui brufoli esistenti basta tamponare una goccia di siero e il gioco è fatto, il giorno dopo si sono già sfiammati, merito dell'acido salicilico, ci sono meno punti neri sul naso, solitamente zona molto critica, le macchie stanno lentamente schiarendosi. Inoltre ho notato un miglioramento notevole dei rossori localizzati, sono di meno i quelli presenti tendono piano piano a svanire. L'etichetta, INCE PAO. INCE AQUAL COLDENAT Propanidiol, Gliclic acid, Naicinamide, Deimetil, Isosorbide, Pentilene, Glicol, Selicilic acid, Sodium, Hydroxide, Peg 60, Hydrogenated, Castor Oil, Hydroxietol, Piper, Sinete, Insalfonic acid, Citric acid, Peg 30, Gliceril, Cocoate, Caprilo, Ilselic acid, Biosaccharide, GAM1, Maltodex, Trinfaitic acid, Poliquaternium, 10, Parfum, PAO, 12 mesi, Opinione conclusiva. E fa Clarsiero è la prova che ancora una volta la Roque Puset coglie nel segno. Il nuovo prodotto del brand francese è ciò che ogni pelle mista e grassa cerca, un aiuto concreto per ridurre brufoli, macchie da acne, lucidità e riequilibrare la produzione di sebo. Con l'uso costante la pelle è come rigenerata, fresca e purificata. L'incarnato riacquista luminosità, con una grana affinata e pori meno visibili. Le macchie sono schiarite e i brufoli non solo vengono contrastati con una valida azione sfiammante ma ridotti nel tempo. Il mix di acidi e esfolianti è efficace pur mantenendo una delicatezza che nei peeling è rara da trovare. Consigliato se cerchi un siero esfoliante per pelli miste e grasse che sappia purificare senza aggredire, decisamente uno dei migliori di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni. Alla prossima! Acido Ialuronico Sieri Viso Amazon, guida all'acquisto Quali scegliere perché i migliori seri alla vitamina C per la pelle e a cosa servono? 33,99 euro e 50 centesimi Valutazione complessiva 9,5-10 acquista 8,5-10 acquista 8,5-10 acquista